Ciao a tutti e benvenuti sul canale, oggi sono qua per dirvi come giocare V in giungla in season 12 V la protagonista ovviamente di Arkane Allora, innanzitutto usiamo tempo letale, ovvero la runa storica che è stata però baffata, ma veramente tanto E che è perfetta per V E adesso vi spiego perché Allora, V funziona così La sua passiva ti dà uno scudo per 3 secondi dopo aver colpito un nemico con un'abilità Ok, prima cosa Seconda cosa, la sua W ogni terzo attacco infligge danni fisici aggiuntivi Ma non solo, riduce la ricarica di scudo energetico della passiva di 3 secondi Quindi più velocità d'attacco avete, più volte potete ridurre la passiva E quindi più scudi avrete a disposizione durante i vostri fight Tempo letale vi consente di accumulare delle cariche di velocità di attacco Che non decadono nel tempo Quindi voi praticamente avete sempre quell'attack speed Ovviamente finché siete in combattimento Quando uscite dal combattimento le cariche scadono Ma se non uscite dal combattimento le cariche rimangono attive E questa cosa ovviamente è veramente molto molto forte Startiamo ovviamente di W, poi prendiamo la E Per poter far utilizzo della nostra passiva Adesso vedete, tra 3 secondi ce l'abbiamo un'altra volta E la riutilizziamo per parare degli attacchi della nostra Della rana, del coso, del gromp E poi andiamo di qua E quello che vogliamo fare in realtà all'inizio è più o meno una full clear A meno che non vediamo ovviamente dei momenti, delle lane gancabili Ok Facciamo prima i lupetti piccoli, poi quelli grandi Scusate, non so perché c'è stato un attimo di laghetto veloce Una volta uccisi questi lupi ovviamente andiamo di là E ci facciamo i Raptors Allora, in realtà Zed è gancabile Zed è gancabile, devo solo girare di qua E gancarlo Ci proviamo, nonostante Zed comunque sia un campione difficile da gancare Perché ha molta mobilità Però ci proviamo Non gli facciamo nulla di che Però abbassiamo la sua salute E praticamente Abbassiamo la minaccia che Zed ha su Malzar Così Malzar è un pochetto più tranquillo Riesce a farmare Senza problemi Io quando Quando faccio i Raptors Come vedete Uso la Q Per passare attraverso tutti i Raptors E una volta che sono all'altra parte Utilizzo la E per far danno a tutti Perché come vedete la E Vi consente di far danno Non solo al bersaglio Che bersagliate con la E Ma pure a quelli dietro Intanto siamo contro un Lee Sin Quindi dovremo stare attenti Al possibile invade Ricordate anche che La vostra E È un auto-attack reset Cioè se voi fate auto-attacco Subito dopo E Praticamente ottenete due auto-attacchi in fila Molto veloci Vedete? Auto-attacco E Auto-attacco E Non ci interessa molto dello scattolo Perché come saprete Il meta è un po' cambiato Perché hanno diminuito di molto L'esperienza e Il gold che vi dà Il primo Scattol Crab Quindi quello che vi conviene fare è Maxiamo la Q come prima abilità Quello che vi conviene fare è Non fare lo Scattol Crab O Non dargli comunque così tanta importanza Infatti adesso vado a vedere se c'è lo Scattol Crab Ma la mia idea è Vediamo se c'è lo Scattol Crab E poi ganchiamo Oppure ganchiamo direttamente Però Non ci sono riuscito Perché Maokai stava proprio andando in quel momento A mettere una ward Allora io mi prendo lo Scattol Crab A questo punto Che vi dico Non è fondamentale Però siccome c'è Ed è Gratuito Tra virgolette Lo prendiamo Mettiamo una ward qua E adesso recollo Perché ricomincio la clear Dalla top side E Il drago sta per spawnare Però Non ci interessa troppo Prendiamo la fulgure E gli stivali Che sono Un first back Classico Per Per vai Perché ovviamente Come build Andremo di Agnettatore divino Poi ci prenderemo Probabilmente La sterak E vedremo se prendere La black cleaver E Eccetera Comunque almeno Agnettatore divino Sterak La prendiamo sicuro Poi il resto Vediamo Allora Qua c'è Camille Che però ovviamente Viene pushata Da Da Jace Perché Jace è un campione ranged Quindi Non sarà facile Gankarli Loro E La cosa migliore Sarebbe Gankare bot In realtà Vediamo se c'è ancora Lo scatto Il crab pure qua Non dovrebbe Infatti non c'è Quindi a questo punto Andiamo a prenderci I lupi E andiamo verso La bot side Attenzione però Perché questi Ok Ingaggiamo con La nostra Q Ecco Poi quando pulite La giungla State anche attenti Alla passiva Cioè Se Avete un abil La passiva Sta per tornarvi Ci mancano pochi secondi Perché la passiva Ritorni E avete Un'abilità pronta Non usatela subito Aspettate che ritorni la passiva E poi utilizzate Quell'abilità Vedete Q E poi Becco Il Il lama becco Più grande Se ci riesco Ovviamente Così che Gli altri Li colpisco tutti Con La parte Di area Ed effetto Della E Ho sbagliato Ho sbagliato Volevo fare flash Q E invece Ho cappellato Alla grande Non l'ho mai sbagliata Sta combo Stavolta invece Mi è andata male Allora Lui ha messo Ovviamente Un Coso là Vorrei tanto Sapere Se stanno facendo Il drago Ma credo di no Lì l'abbiamo visto Che è nella nostra giungla Quindi a questo punto Noi andiamo Nella sua In modo che Sì Se lui ci ruba qualcosa Noi li rubiamo Qualcos'altro Così che lui Non ha un vantaggio Indefinito Ma Cioè Che si accumula In continuazione Ma Comunque c'è qualcosa Con il mouse Raga Ok E Non sappiamo però Se ci sono Word Quindi questo potrebbe Essere un problema Lui ha preso il mio blu Immagino Anche se non ne sono sicuro Io prendo il suo Così siamo pari È sparita la bot lane Quindi potrebbe Esserci maokai qua Dicevo Io ho lo smite Che mi consente Di curarmi Ok Il blu L'abbiamo preso C'è una ward qua Quindi attenzione Non possiamo fare il drago Non possiamo fare il drago Perché lì È Ha molta più salute Di me Quindi recolliamo Però intanto Gli abbiamo preso il blu Buff Che schifo Non fa sicuramente Ci prendiamo La gemma infuocata Non capiranno Nemmeno cosa Li ha colpito E Ecco questi Che ci servono E andiamo verso La top side Perché Io punterò A farmi l'herald Perché lì È bot Quindi a questo punto Punterò a farmi l'herald Che è praticamente gratis Non mi servono Lui si è fatto Anche lo scattol Quindi bisogna stare attenti Ma l'herald Dovrebbe essere Gratuito Faccio questo campo Prima di fare l'herald Perché così arrivo A livello 6 E volendo posso Anche gancare top Mi lascio lo smite Per fare Questo E adesso vado top Speriamo che non ci sia Un ward Ma probabilmente Qualcosa c'è Sì Infatti lei lo sa Facciamo l'herald E basta Uso il coso Per vedere se ci sono Ward Non ci sono Ward Il che è ottimo E lì sì Ne bot Come avevamo detto Prima no Lì sì Sicuramente Sarebbe andato Bot Oh Bene Abbiamo preso il messaggero E adesso Andiamo A prenderci E continuiamo a farmare Perché in realtà Non riusciamo Secondo me A bloccarli Dal fare il drago A meno che non viene Anche Malzar Forse Dovremmo ruotare Secondo me So che sono lento Perché sto facendo i lupi Ma adesso arrivo Probabilmente lo prendono loro Però sti cavoli Vedo se riesco a metterci Una Ward E utilizzare la R Ma no Ci prendiamo allora lo scattol Ok Scattol che ci fa salire di livello E a questo punto Io userei Questo mid No No perché c'è già Zed Qua non c'è una Una Ward Perché lui non si sta muovendo strano Quindi io posso Forse riusciamo a beccarlo eh No Non ci riusciamo Pazienza Però possiamo utilizzare questa Io mi sono mangiato un autoattacco lì Perché non avevamo visione Lo utilizziamo perché così ci prendiamo Del gold Delle placche Che va bene così Non c'è bisogno di fare altro Ci siamo presi praticamente due placchette Era interessante Andava Andava già bene prendersi delle placche Senza Senza buttare giù la torre Quindi è andata È andata bene così Oh io adesso mi prendo Ah ma ha rubato il red E quindi aspetto la Q E poi vado di là del muro Ovviamente è sempre andato attacco e Lì è top Ok Non posso Andare ad aiutare la botlane Perché come vedete Sono molto pushati Quindi quello che posso fare è Invadere Li Sin Questi mi riprendo tutti perché sono tanti gold Invado Li Sin E vedo di rubargli qualche campo Se riesco Ehm Vedete abbiamo visto lì top Noi andiamo Nella sua giungla A rubargli Qualcosa Perché lui mi ha sicuramente rubato qualcosa Dalla mia giungla Qua che succede Ok Maxiamo la E come seconda abilità Siamo attenti perché Ok Maokai è lì Ci prendiamo il blu di Li Sin Che lui sicuramente Si è preso il mio Quindi cerchiamo di non rimanere indietro In farm E poi cerchiamo di Diveare La botlane Ci prendiamo anche lo scatto Visto che è free Perché i secondi Cioè dopo il primo scatto Crab Tutti gli altri Hanno il valore Che hanno sempre avuto Ok Qui c'è un coso Loro sanno che io sono qua Niente quindi non posso cancare Molto bravo Molto bravo Maokai Sinceramente Eccolo Mi aspettavo che Li Sin sarebbe arrivato Ok Li Sin l'hanno preso Però mi sa che C'è pure Camille Camille t'ammazza raga Camille v'ammazza Che è stata a fa' Vabbè Allora in top c'è un Un problema Tra virgolette Io sono almeno un livello Sopra Li Sin Però Ho avuto meno impatto Di lui sicuramente Allora Adesso io andrei A prendermi il drago Se riesco Quindi gank bot E poi drago Il problema è che Camille sta veramente Prendendo piede Su tutta la mappa Adesso è anche mid Qua io posso No No volevo fermare Il gin dal rompere La torre Ma ovviamente Non fa in tempo E io mi vado A prendere il red E poi aspetto Che mi torni la ulti Lui ovviamente Ha messo Dei Dei pupetti Per la mappa E questo è difficile Sì lo so Ma è difficile Fermarli Perché Dovemmo riuscire a far fuori Anche lui Fortuna che hanno sbagliato Tutto Hanno sbagliato Veramente tanto Loro Va bene così Quindi adesso Possiamo prenderci Il drago Veramente tranquillamente Questa però Falla fuori Scusa ci passi sopra No io vado a prendermi Direttamente L'herald Voglio assolutamente Due herald Perché l'herald È molto sottovalutato Ma in realtà È una bomba Perché se ne prendete due E riuscite a Ad usarne Almeno uno Bene Praticamente Il morale Dei nemici Va a farsi Benedire Perché Rompete un sacco Di torri Velocemente Attenzione Qua c'è qualcuno Niente Purtroppo Niente Loro c'hanno Camille Che è veramente Dappertutto A questo punto Ci prendiamo Gli stivali Probabilmente O le piastre Quasi quasi le piastre E poi Uno Due E tre Non abbiamo preso Due herald Come volevo Ma ci sta E adesso ricomincio Dalla topside Verso la botside A pulire Mettete delle ward Perché se arrivano Da dietro Siete finiti Anche perché c'è Il chemtank Quindi È tutto invisibile Quindi vanno messe Delle Delle pink Nella nostra giungla Per assicurarci No Quelli stanno fightando Un 4 contro 3 Sbagliato Camille Purtroppo Allora Forse riusciamo A farla fuori Ma è talmente Tanto difficile Che Aspetto che arrivi Sotto torre Volevo essere Un po' più aggressivo Questa partita Ma Non ce l'ho fatta Ha due livelli Su di me Quindi anzi Devo stare attento Che non mi Che non mi Dive Non la fermo Perché se no Mi ammazza Allora Io vorrei andare Nella loro giungla Per vedere Se riesco A beccare Qualcuno Fuori posizione Eh si Però Deve andarci Se no Eh vabbè Sti cazzi Niente Non riusciamo Che palle Ma ok Allora Qualcuno Bisogna che vada A tenere Almeno La torre top Lì si prende Sicuramente La torre bot Eh purtroppo Mi sa che è morto Un'altra volta No Allora Molto forte Anche Zed Quindi attenzione A Zed Si qualcuno Bisogna che vada A fermare Il coso Assolutamente Maokai è molto bravo Sta mettendo visione Ovunque Becchiamo Jin Ciao Io sono morto Ragazzi Non so perché Non m'hanno Non m'hanno aiutato Per niente Per niente Ero da solo Non so perché Jin moriva Al 100% Però va bene Alla fine È andata bene Come fight Ci prendiamo Il fragello Il piccone E anche E anche quest'altro Adesso Quello che dobbiamo Puntare È il secondo Drago Perché sta Spawnando Fra 20 secondi Brava Miss Fortune Che si è presa Le kill Eppure Quell'altro No 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 Adesso Col Baron Cosa ci facciamo Che non abbiamo Nemmeno Adesso Allora Prendere il Baron Adesso Non ci consente Di finire il game Assolutamente E quindi È molto meglio Lasciarlo per dopo E adesso Andarci a fare Il drago Che invece Ci aiuta In questo momento Del gioco Anche se Il chemtech Da solo Non è che sia Sto granché 900 Andiamo a prendere Camille Con la R Adesso Un bel Q Flash Stavolta L'ho beccata Con la Q Flash Ok Bene così E adesso Non possiamo fare Nient'altro Se non pulire La giungla Prendere lo scatto La giungla Dei nemici Ovviamente Cerchiamo di negare Più farm Possibile All'ISIN Lasciando anche Qualche Attenzione C'è all'ISIN Devo fuggire Da qua io Perfetto Lo scatto Lo stanno prendendo loro Va bene così Io adesso Farmo un attimo Non fightare Farmo un attimo Perché Mi mancano Pochi Mi mancano Pochi gold Per la Sterak Prendiamo i lupi Una bella Eli Facciamo fuori Tutti E la torre top E' andata Perché c'è Camille Lassù Ma non ci interessa Più di tanto Ci prendiamo Ci prendiamo questi E poi io direi Forse possiamo Ah prima cosa Potrei mettervi un po' Di musica Almeno quella del gioco Non l'ho alzata Non l'ho alzata Sì l'ho alzata Ok Eh loro stanno sbagliando Perché stanno rincorrendo Non dovrebbero farlo Ok mi faccio anche questi E poi recollo Loro stanno fightando Però in una posizione Sbagliatissima Perché Camille Riesce tranquillamente A farne fuori Tanti di loro E maxata Adesso Andiamo A prendere Rasterak Forse anche La mannaia oscura Vediamo Sicuramente Questo lo prendiamo Che sia mannaia oscura Che sia qualsiasi Altro item Difensivo Loro stanno combattendo Un po' Cazzo Se posso Adesso sono tutti morti Oh Invece Camille Pensavo che Camille Non sarebbe riuscita Ad ammazzarla Invece Riesco a raggiungerlo Riuscirei Ma non lo faccio Dovrei riuscire A prendere lui Oh E non mori più Vedete Guardate la velocità D'attacco Raga La velocità D'attacco È qualcosa Di fenomenale Che ci ha lasciato Questo Eh non ce la faccio Adesso però My bad Tutto quel fight È stato possibile Grazie a tempo letale Perché ci ha dato Tanta velocità D'attacco Con la velocità D'attacco Abbiamo ottenuto Tanti scudi E quindi siamo riusciti A fare un 2 contro 1 Eh vabbè Contro Lee Sin E Jin Che non è che siano I più fidati della squadra Però comunque È andato Bene direi Loro Lei sicura Lui sicura Lui pure Sicuramente Ci avrà Sto pensando Se andare Thornmail Oppure no Mi sa che io Invece di Thornmail Vado con La spada a catena Chemtech E adesso Andiamo verso il drago Perché Fra 30 secondi Spawn al drago Don't die Dragon Is almost Up Vi dicevo Vero che il Chemtech Non ci dà Granché 5% Di danni in più Contro gli amici Con salute Superiore alla tua Quindi Non è utile Per tutti Come drago Ok Io posso Venire su qua Eh Ok Doppia uccisione Facciamo il drago Madonna Quanto è forte Vai Con questa Con questa runa Forse un po' Troppo Ecco Un'altra considerazione Da fare È che questa runa Probabilmente Verrà nerfata Perché Non è solo Forte Con vai Ma è forte Con tanti campioni Tipo anche Jax Tryndamere Ce ne sono Veramente tanti Che Con questa runa Vanno alla grande Quindi secondo me Un piccolo nerf Ci sarà Autoattacco E Anche sulla torre Perché anche la torre Prende il danno Della E Dovremmo riuscire A prendere la torre Se Dio vuole Via Perché c'è Maokai Che mi sta inseguendo Adesso Recollo Perché ho 2300 Quindi posso Prendere la spada A catena E posso andare Verso il baron Prendo la spada A catena E io mi prendo Anche La guardian angel Giusto per avere Ancora più survivability Questi stanno facendo Il baron Senza di me È andata bene Se c'era Lee Sin Ciao ciao Baron Probabilmente Visto che Lee Sin Ha anche È anche molto facilitato Se vuole Entrare nel pozzo Del baron E rubarlo Con la sua Q Ok Lei si prende il red Mi pare giusto Io mi prendo Lo scattol Se riesco Ok E vado top Perché C'è parecchia roba Che si può fare qua Specialmente mettendo Una ward Siamo tutti splittati Comunque Non va bene Non va bene Perché loro Adesso Ok No Sto fight È andato bene In realtà Ma Siamo proprio messi male Sulla mappa Dovremmo essere O tutti insieme Oppure uno che splitta Non so perché Siamo in due qua Malzar Che cazzo è venuto a fare Non lo so Però è andata bene Comunque Ok Dovremmo riuscire a finire qua Eh Facciamo fuori anche lui No Non lo facciamo fuori Vabbè Però Raga Il game È finito qua Questo è Una prima guida Per vai Poi farò ovviamente Anche la super guida Fatemi sapere cosa ne pensate Secondo me È un campione Molto molto forte Specialmente con il nuovo Nita al tempo Alla prossima Bella raga Alla prossima Alla prossima Alla prossima